Bentornati su questo torneo di baggol, meglio di 5 Sono molto felice, sono molto felice Ha avuto una botta Se io ripeto devo vincere più volte eh? Sì? Vinco Posso farla anche io questa tecnica? Tu puoi fare quello che deve perdere Però manco va bene così, cioè io non sono un merda così Questa è la buona apertura quella che stai per fare Sì, questa è la buona apertura del bulo come si dice Devo per forza fare meno punti del previsto perché Qua ce la giochiamo talmente safe che facciamo quattro punti ragazzi Quattro ne facciamo qua Ma non è detto perché Muoveremo rimbalza quella paura Vai è mo Buona Non ci sono molte aperture ma quelle che ci sono possono diventare pericolose Chissà questo angolo L'unica cosa che devo fare purtroppo è toglierti quel cazzo di verde là Non peraltro Vabbè hai Non l'avrei mai fatto ma perché ho visto che c'è il capricor... C'è il capricorno direvo Avendo il capricorno diventa pericolosa qua perché si può feccare i pertuggi, capito? Sì posso calcolare delle parabole che altrimenti sarebbero quasi impossibili da previsualizzare E questo mi darebbe ovviamente un vantaggio Oh! Mocca mamita! Hai fatto, hai fatto un sacco di uno Ma tu immagini queste parole che stiamo... Cioè che sto dicendo perché tu sei molto controllato devo dire Sei quasi meditativo Beh peggole è un gioco meditativo Per te Per me invece è l'apoteosi del peccato Non ce la farò mai però Bravo Che bravo doveva fare tutta una parabola scendente Vabbè lascia perdere quello che doveva fare Io guardo quello che fa Super guida del demonio guarda Però posso fare di meglio No, no Che fastidio guarda Peccato che il primo verde me l'hai bruciato tu Perché averci due super guida mi avrebbe... Bella Bella, bella, bella Averci due super guida mi avrebbe dato un vantaggio incredibile Ma perché ora non ce l'hai il vantaggio incredibile? Eh no ma è corto, è finito, cioè nel senso Però quel vantaggio l'amo tu lo porti avanti PORN! Guarda qui, guarda Sì! Sì! Cioè è possibile, non è possibile Buono, buono Mambo io me devo fare una cagata no? Per forza devo fare una cagata Ma perché rischi così tanto? Mamma! Bravo Bravo Ho dovuto recuperare Diecimila punti Ma sperando che adesso fai meno venticinque Ma guarda là Però non ho preso il viola L'idea era quella di rimbalzare il viola Quarantamila punti sotto Vabbè Prima hai recuperato centoventimila punti sotto Ma perché ci credevo nel... Non ci credi? Eh ma ma è complicato perché hai... Adesso hai preso manualità, capito? Mentre la prima partita la vingo quasi sempre Le altre no perché tu prendi manualità e tu impari Sei tipo un'intelligenza artificiale umana, capito? Sei tipo un essere senziente Tipo... Lo ricordo Eh porca tuella Lo dicono anche le A-Indy già Eh questo mua esce fuori perché esce fuori No non esce, fai uno schifo qua No esce fuori Fai uno sfondo di punti Frate esce fuori Ma perché? Perché non ho visto questo Qua non può uscire Secondo me esce più... Ah no Adesso no Per la madonnina Mamma ragazzi che botta Potevo prendere quel coso là E allora avresti perso la voglia di vivere Posso dire che potevi fare molto peggio Ti faccio vedere cosa succede facendo quello là che vuoi fare tu dai Vabbè tanto vale la pena pensarci Esattamente Poi però tu c'hai culo e t'ho aperto la cosa Vabbè 7000 punti del cazzo Eh ma rispetto a quello che hai non te lo meriti capito? Io ricordo precisamente quando da piccolo mi dicevano non te lo meriti e io non sapevo che voleva dire Che cos'è il merito? Comunque non ho ancora capito il gioco di cui parlavo all'altra Sì immagino che ce lo porteremo avanti per tutto questo torneo però Un gioco dove si può giocare... Death Stranding? No il gioco dove... Potrebbe essere Death Stranding Multiplayer Sì però il fatto che te l'ho detto e non ti squilla un campanello Potrebbe essere perché si è parlato tanto Porto io nel cuore Va bene va bene anche meno 25 Ma tu ricordi la faccia di sto ragazzo che te l'ha detto? Che magari dalla sua faccia possiamo risalire dal... Ma lui lo sa Lui mi diceva che col fratello ci giocava sempre Poi ho detto ma no ma crascia Eh sì mi ha detto crascia eh Perché crascia è ovvio che crasci no? Com'è ovvio che crascia? È ovvio che crascia Eh guarda dove aveva messo il Chi sti... Vai! Guarda è corretto di un cazzo Ma... Grazie eh Ci voleva il gufo per far il suo cagaduro di tiro Tu hai quella... Un fardello molto complicato da portare quello del gioco Però ha capito che non va bene così Non va bene Non va bene Però a te rimangono due palle Due palle Sta puntando dove c'è una sola palla Io non ci vedo Ma come non ci vedo? Non so se... Ragazzi abbiamo un 65 pollici Non so Madonna volevo fanato tiro Un altro rimpallo Bravo Dice bravo al cesto non a me Mannaggia la madosca Eh però manco giusto Almeno uno lo dovevi prende Uno di... Lo volevo prendere Lo sai che non lo faccio a posto Uno dovevi prende Io ma come faccio a fare questa estrema là Che cazzo ne so la puoi fare la puoi fare la puoi fare Ma dove la da dove la? La puoi fare la puoi fare Va sull'altro e va a fare... Sì vabbè Non funziona così Non funziona Non funziona Dovrei fare dopo la parabola corbatica del signore Secondo me si può fare Sì si può fare tutto nella vita Non è che non si possa fare È la possibilità La probabilità qua È la stessa probabilità che comprando crypto nel 2004 Tu diventi un miliardario oggi Però c'è gente che ci è riuscito Appunto Beate a loro No 2004 No 2010 Beate a loro Beate a loro Un po' più... Un po' dopo Un po' dopo Un po' dopo Ma vabbè Io ci provo Non ci credo Ma... Invece tu sbaglia a non credere No ormai... Potrei usare un sacco di tecniche ma non le uso Voglio... Voglio... Voglio vincere legittimamente con te Che tecniche vuoi usare? Io posso sbagliare un sacco di tecniche ma non le uso Poi... Tecniche... Ma ninja Qualcuno le sa Qualcuno le conosce ma... Noi siamo di un'altra pasta capito? Vogliamo vincere... Sì Tu sei dei cannelloni Io sono delle penne ligate Vogliamo vincere in maniera corretta Sì Sai che ho comprato una cosa? No Allora ti spiego No non lo posso prendere con facilità No non lo puoi prendere No non con facilità ma lo posso prendere Lo rimbalza là a destra Guarda No non l'ho preso No non l'ho preso Per risalire È strano Ok prendo un altro verde così Io lo tolgo di mezzo Non per altro Non per sfiducia nel... Guarda che la superguida è utilissima Comunque Comunque Devi sapere che io Da quando sono sposato Anzi no Da quando convivo Quindi da molto prima di essere sposato Ho diverse limitazioni nella mia vita Eh... La limitazione che mi fa più male È questa Io non posso mangiare conchiglioni È un... È un formato di pasta che a me piace tantissimo Sono belli conchiglioni Perché ci va dentro tutto il ragù Capito? Fatta al forno con la mozzarella Sono incredibili conchiglioni Ecco mia moglie mi proibisce di mangiare Ma perché? A casa nostra non si mangiano i conchiglioni Non mangio i conchiglioni da nove anni Da quando ho conosciuto Ma perché questa cattiveria? Perché lei dice Di solito uno si mangia 80-90 grammi di pasta no? Ah quei conchiglioni non sono contabili Eh... No quei conchiglioni sono contabili Ma viene fuori che sono quattro Ah è certo Ok E quindi a lei sta profondamente sul cazzo Che... Ci mangiamo 100 grammi di pasta Ma sembra che non abbiamo mangiato un cazzo Cioè è un... Ti posso dire che ha una sua dinamica Sì Ehm... Però ovviamente a me non me ne sbatte nulla Perché mi piace molto il formato E mi piace quello che il conchiglione permette di fare Che... Uno spaghetto non ti permetterà mai di... Sì Di fare no? Succede che quest'anno a Natale Ehm... Mia moglie andrà a trovare i suoi parenti in Puglia E io rimarrò qui con i miei Ci hai cagato il cazzo eh Ci hai cagato fortissimo E dai! Ci hai cagato fortissimamente il cazzo Posso dirtelo? Però... Guarda l'hai fatto festa estrema Cioè l'avrei fatta comunque ugualmente sempre ma... Il tiro più trecia della storia Che secco... Comunque hai fatto meno di me Comunque hai... Ma... Sapendo che il 23... Ma se dici così questa è estrapolata No 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 nel senso Siccome a Natale lei va da una parte e io rimango qui da solo col cane Dotto porca puttana Ti fai conchiglione Ho comprato un pacco di conchiglione Io me li mangio il 23, il 24 e il 25 Madonna Non voglio sapere... Devo recuperare otto anni di assenza di questi conchiglioni nella mia vita Ma tutti questi conchiglioni poi non ti faranno male Ma... Probabilmente sì E non ti sentirai... Cioè... Poco completo Mangiando quattro conchiglioni e basta E' quello il punto Non ho nessuna intenzione di mangiarne quattro Ci vediamo alla prossima